Ciao a tutti, sono Angela Crocetti e sono di Ascoli Viceno. Ho iniziato a cantare all'età di otto anni, spinta da un forte desiderio di esprimere quello che avevo dentro, per poi intraprendere gli studi in conservatorio e diplomarmi in canto lirico. Nel corso degli anni mi sono specializzata sulla vocalità infantile con il maestro José Maria Asciutto e sono diventata anche direttore di coro. Il mio obiettivo è quello di far trovare ad ogni allievo la propria identità, identità vocale, attraverso la consapevolezza di quello che accade dentro e fuori lo strumento che è la voce, attraverso la respirazione, attraverso i diversi registri che si possono utilizzare, la postura, l'utilizzo del microfono e anche l'esibizione live e soprattutto anche attraverso la scelta del repertorio con la quale si plasma l'allievo, sia tecnicamente e perché no anche in base ai propri gusti. La cosa che mi dà più soddisfazione è quando finita una canzone un allievo sorride. Quel sorriso significa che è riuscito a tirare fuori quello che sente ed è riuscito a dar vita a quella canzone, ad interpretare quella canzone. Vi invito a venire a provare a cantare insieme a me presso la scuola di musica music art che si trova a Silvi Marina. Vi aspetto, mi raccomando! musica 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 musica